Ciao ragazzi, oggi sono tornata con un video un po' diverso e si tratta di un video legato a Youtube ovvero voglio farvi vedere come si possono convertire dei video in tal modo da farli caricare in modo molto molto più veloce allora, innanzitutto bisogna avere installato un programma che si chiama Wondershare intanto lo apro è un programma che va bene sia su Mac che su Windows quindi si adatta bene a qualsiasi tipo di PC questa qui sarà la schermata che vi apparirà una volta che lo aprite e cosa bisogna fare? bisogna trascinare il video da convertire qui dentro in questo momento sto convertendo il tag dei peccati capitali probabilmente l'avete anche già visto che anzi, devo dire che è anche relativamente piccolo perchè se non sbaglio è 2GB e qualcosa vediamo, si sono 2GB e 4 qui vedete quant'è e poi qui vi fa vedere in base a quello che voi selezionate qui sotto quanto diventa se andate in web qua sotto e mettete youtube e c'è 181,7 MB e con questa risoluzione che sarebbe in HD se invece vogliamo andare a cambiare la risoluzione anche se in questo caso a me va benissimo ma vi ho detto che è un video relativamente piccolo perchè ad esempio i makeup tutorial che faccio arrivano anche a 8-9GB di video e quindi cosa devo fare? vado su la rotellina qui di youtube e vado a cambiare la risoluzione andando a mettere una risoluzione più piccola ad esempio 640x360 che devo dire che a livello di video non si nota molto la differenza cioè non si va a perdere molto la qualità onestamente quindi quando i video sono tanto grandi per accelerare un po' i tempi e metto questa qui vi faccio vedere mettendola bisogna fare personalizza e mettete un nome in questo caso io l'ho già fatto quindi faccio annulla e lo troverete qui su costume e infatti avevo scritto video youtube e avevo messo appunto la risoluzione di 640x360 che come vedete da 2GB e 4GB me lo fa diventare solamente di 45MB che si carica diciamo in circa 10 minuti non di più insomma però dato che insomma non è tanto grande e tutto quanto io preferisco lasciare la qualità HD quindi basta che vado su web e su youtube la cosa buona di questo programma è che non è solamente per convertirle ma se cliccate qui sulla matitina parte il video e potete tagliare e aggiustare insomma ritagliare ruotare applicare qualcosa qui ci sono degli effetti dei filtri da applicare al video o a pezzi di video insomma si possono fare i sottotitoli si possono fare un sacco di cose rispetto insomma ad altri programmi che riempiccioliscono sempre i video ma non fanno anche questa cosa un esempio è Movavi se poi vi interessa anche il video su Movavi insomma fatemelo sapere e niente quindi ora andiamo a convertirlo e basta cliccare sul disco qui in basso ah un'altra cosa qui c'è scritto l'uscita uguale alla cartella di origine poi se voi preferite la mettete dove vi pare adesso io metto scrivania così vi faccio vedere come appare dopo e adesso clicco sul disco e aspettiamo due minuti e tre restanti infatti è anche molto veloce nel convertirli questo qui sarà l'avviso che vi apparirà quando avrà finito di convertirlo cliccate su ok e potete chiudere il programma io avevo messo sulla scrivania e sarà il file convertito quello in mp4 mentre quello lì originale è quello in MOV infatti se andiamo a vedere la scheda insomma quello in mp4 è di 198,7 megabyte quello in MOV è di 2,39 giga e niente ragazzi poi non resta che caricarlo su youtube e sicuramente ci metterà molto ma molto di meno ve lo dice una che prima stavo a caricare video anche per 10 ore perché erano davvero tanto tanto grandi io spero che questo video vi sia stato utile e fatemi sapere se conoscevate questo programma e vi mando un bacio ciao 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 ciao